L'hai fatta? Io mi chiedo Sì, esatto E tu se ne è andato però L'ho lasciato a noi Esatto Dai, su, vai Vai Dai, questa è la tabella Ancora con questa salita Ancora Ancora con questa salita Fizzega Io non l'ho ancora fatta Ancora con questa salita Ok, ormai E come voi guardate che è stupida Quella cosa qua Ti butta su per aria ma dopo non No, è che però in seconda Però in terza Ecco qui Ecco qui E' in avanti Cosa che è saltato Oh, ciao E' in avanti E' in avanti E' in avanti E rischi la vita Se sbagli rischi la vita Adesso provo in terza Ma cazzo E' in avanti Ma cazzo E' in avanti E' in avanti E' in avanti no no c'è su lo zaino per fortuna proprio bello preciso aspetta aspetta tiriamola su no fai più fatica tanto quando va giù davanti poi basta ho tentato di saltare lo so ma siete su in voi in due per buttarla giù ti passa sopra giù quasi stavolta giro di lì però è quello di là però faccio dentro l'acqua direttamente terzo è troppo lungo però e ma troppo tutta bastarda la perdo lì e non c'è cazzo da fare seconda adesso arrivo troppo lento e ma figaro ti fa saltare cazzo in terza salti là in seconda salti qua e prendi qua la radicina dentro lì dentro nel bosco vai piano con qualcosa lì hai capito? a me la terra è troppo lunga no no non riesco non riesco non non riesco a trovare il modo di smettila che è meglio smettila che è meglio no ma sono io che sbaglio di bestia che cazzo c'ho qua ecco non riesco a saltar su e concentrarmi a andar via diritto non riesco a puntarla giù questa se la trovi in un posto ma forco zio ma che cazzo c'ho che mi pizzica c'è dentro una vespa fa un culo è morto un cazzo porco diavolo non c'entra niente è figaro e figaro non c'entra niente cazzo qua non c'entra niente qua non c'entra niente o è nello zaino e lo zaino e qua minchia che è pizzicata o non vorrei che ti abbia pizzicato a qualcosa ma sono diventato ma non c'è niente nel culo non c'è niente c'è le mutande di tre settimane fa tiro giù il cazzone un attimo cazzo mi sei indormentato figaro e magari un ragnetto cosa vuoi quei ragnetti ti cagnano qua cazzo non c'è niente dentro la maglia non c'è un cazzo qua non c'è un cazzo via che cacchio ne so vai porca vacca o magari ti ha pizzicato non sei andato va bene sai che quei ragnetti non è che mancano ho più bucato qualcosa chi ha detto non c'è un cazzo non c'è niente chi ha detto che ha morsicato il ragnetto all'altro ospedale figaro la ragazza gli si è no a questi gli mancano i bottoni cazzo che meno male che avevo questo davvero eh ho fischiato la bottiglia la banana ti ha salvato no la banana non è che schiacciata ti ha salvato un po' la bottiglia la bottiglia figaro io senza lo zaino è difficile che faccio le cappellate se sono fermo è un conto ma se no a figaro no io guarda se so che ho lo zaino questo lo metto se non c'ho lo zaino farà schiena ma quando lo prendo lo stai tagliando la bianca no che quello gli serve quello là è andato via col mio coso è ridotto no quello deve stare sempre perché l'ho appena anche affilato che taglia con il rasoio no si taglia via qualche dito è sempre suo non ero bravo capì verrà qua di là no a parte che è tagliato affittato giusto con quello che lo riattaccano no perché l'ha già fatto una volta con la cazzata via che non l'ha tagliato via mi dà aiuto cercami il dito quel cazzo lo deve cercare lo mettiamo in segno prendiamo l'osso di là gli mettiamo quello eh prendiamo l'osso il cazzo vai da prendere con un sacchetto il caglio a toccare con lei si metteva così ah c'ha paura quello là si c'ha paura guarda che è il sangue il guai l'osso lì non ce n'è lì già lo prende vabbè la metta a posto non gli dai mica il ginocchio te no gli do quelli di bufalo sai quelli arrotolati che sembra che ha la forma dell'osso bravo ma sono dei pezzetti poi quando rompe il primo pezzetto si sbriciano fuori i pezzettini che non si stanno come la città ma cos'è i tendini sono? no è pelle pelle del bufalo proprio pensavo fossero i tendini no non sono no è presto prossimo giro allora io quasi quasi la vado a lavare su al lavaggio andiamo a preparare il bar e basta oh guarda io ne abbiamo fatto due giorni figaro sono sudato marcio sono venuto così ma sinceramente anche io sono un po' colpo poi ho detto ciao andiamo a fare un girettino perché gli ho detto a lui che... sì ma ieri va che abbiamo fatto un giro della madonna tanto per strada però figaro abbiamo fatto un giro esagerato però bello scusami più rilassante la prossima volta glielo diciamo a Luigi e ci porta in giro vabbè ma in giro è sempre di settimana perché a sabato già cominciava ad arrivare tanta gente già c'era in giro ieri lo facciamo al mattino presto come avete fatto voi che non c'è un cazzo di nessuno presto e mica faccio svegliarlo e alle 10 siamo già di ritorno vedi tu coloro lì sì perché lì abbiamo trovato 3-4 persone alle 10 da lì devi già essere sparito poi vabbè lì non ti rompono neanche tanto le balle non è come quattro tutte le persone che abbiamo trovato buongiorno qua ne trovi uno se c'ha un fusile ti spara dagli saluti tutti buongiorno stavano pulendo i sendieri loro che abitano lì c'era là il Federico il coso infatti anche lui ci ha detto io adesso vado a casa dopo oggi però vengo dietro e mi metto a chi aiutare se la gente vede che hai la moto ma sei lì che ti fai il culo erano quattro trialisti quindi figurati più altri 3 o 4 di loro del paese questo taglia eh nel paese si conoscono è un'altra roba devo riaffilarlo qua qua taglia come un rasoio si ho tagliato quel ramo che quel pezzo qua è un po' più ostiato bello quello del paolo eh l'hai visto l'hai visto l'aspettato eh ma noi in moto cazzo di vedere prima te che vi faccio tu hai fattato a piede di fare il cuore io ho fatto il tuo palo mi sono già festato qua ma davanti due settimane ma io ne ho fatti però lo sento che ho picchiato io vabbè sai qua qui ma sai cos'è lo spuntone che viene fuori che ho picchiato, perché la schiena è il coso, ma qua ho picchiato lo spultone che c'è qui, è quello che mi fissicava, mi sai, l'ho picchiato sotto, e probabilmente mi ha, e la Moc l'ho già fatta, quindi non lo vedono, dai dai andiamo in là, Marchino, l'importante che è pulito, dai la facciamo io e te, hai buttato via l'ostacolo, e perché? Perché ti stava sulle, è figo, non è che fa l'ostacolo, no, lo butta via, piantala che dopo ci può servire, te, è un animale, è un animale!